I promessi esposi e ambientato nell'Italia del 1600 Nel 1600 in Italia vi erano molte leggi, queste leggi venivano chiamate grida, grida in plurale, spesso erano disattese. Esistevano molte grida che provivano ai bravi, vi erano delle gride che provivano anche alle persone di portare il ciuffo, che era un elemento distintivo dei bravi, spesso le leggi erano disattese. I potenti facevano il bello e il cattivo tempo nell'Italia del 1600 Nel 1600 Quello che Don Rodrigo voleva fare, impedire il matrimonio fra Renzo e Lucia, era proibito da delle gride, erano molte leggi che impedivano che le persone ricche e prepotenti potessero impedire un matrimonio. Oggi in Italia, anche se la situazione è notevolmente migliorata rispetto all'Italia del 1600, spesso abbiamo delle leggi che non riescono a risolvere alcuni problemi. Lavoro Sicurezza nel lavoro Violenza Sono tutti problemi contemporanei all'Italia di oggi e lo Stato non riesce spesso a trovare una soluzione con le sue leggi. Il romanzo del Manzoni, in quanto riguarda le leggi, è attuale. Ora Provto Riccia Riccipi Ricci Grazie a tutti